C'è un assafato versino dei cittadini Oggi facciamo una bellissima crossbar challenge Con il premio in palio 50 euro Ma che 50 euro di più? 100 100 se ne hanno giocate 100 non scendo neanche in campo 100 euro Però ragazzi bisogna beccare la crossbar da vendati Lo vedremo subito Allora ragazzi Prima di iniziare con questo video Mi raccomando iscrivetevi al canale E se raggiungiamo 10.000 like ragazzi Regalo 50 euro a uno di voi Quindi ragazzi iscrivetevi Iscrivetevi Questa challenge consisterà Nel beccare la traversa da vendato Ci sarà un primo giro Un secondo giro E massimo un terzo giro Se nessuno di loro avrà preso la traversa Ragazzi vincerà chi E' stato l'unico ad averla presa Wow Questa è la bandana ragazzi Questa è la porta Questi sono i palloni E dovremo beccare la traversa Forse Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel like Perché adesso la prende Ok E se non la prende non lo lasciate Mi metti tutto Il pallone E' alla tua destra Ok In the bone In the bone Ok Due passettini Vai Dai Oh Vente Primo tiro Mi dispiace è fallito Qua 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 Qui è la palla Toccala Toccala qui aspetta Non vedo un cazzo Ragazzi I 100 euro me li porto io a casa Tranquillo fra Non vedo un cazzo ma la prendo Hai ragione Ok Vai Quando vuoi Mo la prende Ci sei Ci sei Vai Vai Oh 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 Ragazzi Adesso per il Catania Far prendere una traversa Prenderò i 100 euro E li donerò a Catania Per risorgere Grande Ale Che gesto Fa Tania Grande Ale Oh Oh No Niente Non mi apri E sono tornato per vincere i 100 euro Vedremo se sarà così Vai Oh No Però c'eri quasi eh Però c'eri quasi Quasi Ciao sono Pierino Prenderò la traversa E i 100 euro Oh Così Così Guardate là Così Oh Oh Che cazzo è No No Dai Pier Oddio Oddio Mi credo l'ha presa Dattemi i 100 euro Sono presa Sono presa Bologna vince Bologna rinasce Primo ragazzi Incredibile Wow Grande Pier Mamma Africa Io spero tu sia pronto per questo tiro Sono prontissimo Iniziamo bene Sono mamma Africa Mio figlio Samuel Dove è? Mio figlio Samuel Dove è? Oggi prenderò traverso solo per voi Vincere i 100 euro Per comprare i 100 euro di riso Grazie Ok Andrà tutto benissimo Quella zona è la Ehi Ragazzo voi ti fate pubbo eh Sono un po' a pubbo con me Ragazzo Vai E' ancora lì la palla Vai Finirà male Oh Ah Guardate in fase Proviamo Vai Ok Ok Oh Quasi Guarda Quasi Ma forse l'ha sfiorata Sfiorata Si L'ho presa? Vai Solo perché è mamma Africa E me l'ha sfiorata Sincere No niente ragazzi Non l'ho presa Dai però Almeno voi Per favore Ragazzi Sono qui per Farvi un minilepper Una minileppata Qui siamo con mister Un grande salà Perché Ci regalerà bontà Ed inoltre Prenderà la traversa Per metterlo in culo Nella fessa Si Vai Anto Uuuu 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 Allora Forte 100 euro Uuuu Uuuu Quasi Quanto Quasi Sembravi Momo Sembravo Che qualità Quasi Ma quasi non è 100 euro però Oh aspetta Aspetta Ma io non mi devi concentrare Uuuu Uuuu Quasi Quasi Allora Doppia difficoltà Calzino rosso Più occhiali No No Raga Le campaneggiate Il segno divino Questo è Gesù Cristo che me la manda Giastì Uuuu Uuuu Napoli E niente Mi sa che Il segno divino È proprio il segno di Vabbè No Sicuramente era padre Pio questo Sì Prossimo Allora Io questa volta ci riesco Perchè in Africa non c'è l'acqua Stronzata Che significa in Africa In Africa non c'è l'acqua Non la luce Idiota In Africa non ci sono i soldi Allora Allora Ho detto Io questa volta ci riesco Perchè in Africa Stava sempre al buio Quindi ci dovrei riuscire Si è evituato Vai frate È lì la palla Ok Porca miseria Andiamo Vai Nooooo Dai Piedi questo Niente Non cambiato niente Prossimo Vabbè ma non eri abituato E infatti non eri abituato Eh nooo Sono stato sabotato Sono sempre in bianchi su E' incredibile Attenta il ginocchio No Mi apri Il suo ritorno Vai vai Uuu Naaaa Niente 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 Ragazzi Io devo onorare quello che ho scritto Libro la maglia Giusto? Dammo eh Dai un bacio? Ah Ok Sì A ver se lì Nooo Mister Nooo Quasi Mi sa che dovrò andare in Egitto Ragazzi basta Fini dei giochi Io voglio prendere palla Perchè mamma Africa Sei rotta i coglioni Per sfamare i tuoi fili Per sfamare i miei fili Per sfamare i miei fili Vai Ok Uuu Ancora quasi Nooo Perché non riesco a prendere travesse Va qualcuno Ragazzi dopo il tentativo sbagliato di prima Adesso mi rifarò E vi farò godere Con una bella travesse Vai Mascara 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 Quasi 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 Ragazzi Ultimo giro Chi non ce la fa Mi spiacciono a Pier Avrà vinto 500 euro Ragazzi non mi frega Voglio anche perdere Ma togliamo questi 100 euro a Pier Perchè mi sa sui coglioni Non puoi agguffare Non è mamma Africa Di solito Vi dovrebbe dare a me a pesci per Donazione per l'Africa No Sono incazzato con te Sì Ci siete? Ci siamo Ci siete? Ci siamo Ripeto per l'ultima volta Ci siete? Sì Signor Capitano Oh 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 Quasi Quasi Lo youtuber più sportivo d'Italia Aspetta ora c'è sentito Trovo Con la punta Con la punta No Neanche in porta Sì Dai che stanno finendo E Pierino gode ragazzi Dai che stanno finendo piano piano Io lo ripeto Mi dovrei avere a prescindere questi soldi Chama anche tu il 45505 Dona 100 euro Dai sacca Bukuyo sacca Per favore Bukuyo sacca Sì Oh Sei la vergogna dei neri Preferirei Gnappi Pensate dove siamo arrivati Pensate dove siamo arrivati Vai vai Gnappi Mi compri c'è una pizza D'autorità Sì Niente Niente ragazzi Prima dovresti inquadrare la porta Stanno fallendo tutti Ultimo tiro ragazzi per il Catania E vedremo se Qualcuno darà fastidio a Pier Oppure Andrà in solitaria Ad alzare questi 100 euro Mamma Ficca è con te Siamo tutti con te Codo Oh Aiuto non va proprio Questa sfida Ti prego Ultimo tiro per me Sai dove la palla? Shield ball Sorpresina per voi se la prende Sorpresina per voi se la prende Tio Luigi Hallaro Ma no Manca a mi Allora a posto Già vinto raga Basta Non dico or eh Poi adesso si vede Facciamo un giro ultimo tiro si bene, Gatto ultimo tiro No! 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 Così! 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 ragazzi ragazzi un applauso a pierino se volete vincere anche voi 100 euro iscrivetevi al canale mettete like supportate tutti noi ragazzi questa crossbar challenge finisce qua ci vediamo nei prossimi video